Benvenuti nel mondo degli orologi Vulcan. Vulcan è un marchio svizzero fondato nel 1858, che produce orologi di qualità dotati di movimenti meccanici di alta precisione. L'azienda è nota soprattutto per aver creato l'orologio meccanico cricket nel 1947, che ha avuto un grande successo negli anni 50 e 60, grazie alla sua funzione di sveglia. Oltre al celebre cricket, Vulcan produce anche altri modelli di lusso e dalla qualità eccezionale, come il modello Vulcan Skin Diver Nautique, il Vulcan Fifties Presidents Chronograph e il Vulcan Nautical. Tutti gli orologi Vulcan sono realizzati in Svizzera e sono dotati di movimenti meccanici di alta precisione, garantendo la massima qualità. Il Vulcan Skin Diver Nautique è un orologio subacqueo iconico per l'azienda, che presenta una resistenza all'acqua fino a 200 metri di profondità e una riserva di carica fino a 38 ore. Il Vulcan Fifties Presidents Chronograph è un orologio con funzionalità di cronografo e data, reso celebre dagli allenatori del Real Madrid, che nel 1934 lo utilizzarono per l'intero campionato. Ma non solo, questo incredibile segnatempo fu indossato anche dal presidente degli Stati Uniti Harry Truman, che ne fece accrescere la popolarità e l'interesse degli appassionati di orologeria di tutto il mondo. Il Vulcan Nautical è un modello subacqueo con allarme, che risale al 1961. Le funzioni di questo incredibile segnatempo risultarono estremamente utili ai subacquei che impostavano l'allarme nelle tappe di decompressione. Ma non solo, grazie alla sua tripla cassa di risonanza, i subacquei riuscivano a sentire il suono dell'allarme anche a grandi profondità. In sintesi, Vulcan è un marchio di orologi di lusso con una storia di rilievo e prestigio. Ancora oggi, come dopo la sua fondazione, questo marchio produce modelli di alta qualità e con funzionalità innovative e tecnologiche, tutte qualità che non passano inosservate ai collezionisti e agli appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo.